a grande richiesta si replica il 18 novembre 2016 dove venerdì 18 novembre 21 al cinema teatro san demetrio a grande richiesta si replica il 18 novembre 2016 il cinema teatro san demetrio e se la musica è buona ce la facciamo a portare ce la stringhiamo canzone e tirammo a campare e cammina cammina e chiamiamo a trovare la chitarra e ho trovato